salve amici siamo giocatori per caso adesso facciamo insieme la sfida apri kit missioni poi piazza un disturbatore di segnale fuori dalla base o in una partita ma prima iscrivetevi al nostro canale questa è la mappa del primo posto in cui bisogna andare dove c'è il kit missione che è poco sopra poder pannocchia andiamo qua adesso siamo diretti lì allora c'è già altra gente il kit missioni è qua sotto tutto quello dovete fare atterrare qua e prenderlo e ora uno l'ho fatto adesso anche se non lo segna questa sfida è bella bagata siamo uno di due prendiamo la jeep il pick up quello che è e ci vediamo di non ammazzarci schiantandoci cadendo di qua andiamo verso la nostra destinazione e prendiamo il segnal il disturbatore di segnale che è posizionato qua ce ne sono tre distributori di segnali ve li faccio vedere tutti a tre comunque basta andare qui prendere distributori segnali e la sfida è finita il primo era lì non so se mi mostra gli altri ma adesso comunque proviamo sempre se non mi ammazzano prima siamo diretti verso il secondo che dovrebbe essere qua il secondo è qua lo vedete questo qui è il secondo e infine vicino al silos principale adesso non ho più una ruota sto per morire mi tocca anche correre e mamma mia che strage e infine il terzo è dall'altra parte della fattoria dove c'è quel tipo lì lo vedete sicuramente mi ammazza ma qui poco più avanti c'è il disturbatore di segnali questo il terzo quindi prima dovete prendere il kit che è sopra montagne e poi uno di questi tre come volete questa è la mappa con tutti e tre i posti in cui andare scegliete quello che preferite bene questa sfida è finita tra poco metto anche le altre ciao ciao se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche